buongiorno sono le 8 e 45 stai in ritardo tranquillo tanto non ti conosce nessuno sabato prossimo grande serata di balonissio con l'orchestra michelotti e voilà che dire insomma emozioni forti quindi si può dire che la situazione sia stata salvata da una suora e suora onorata questo lo vedo io non puoi inventarti di sana pianta un servizio di telegiornale ci serve qualcosa che vada fuori da rete unita 2 qualcosa che possa avere eco anche nelle altre reti una nuova malattia ma che cazzo me ne frega delle malattie dovevamo anche farci una diretta so di attrezzature di merda che ci dà in tre due ok il servizio ce l'abbiamo scendicla posso fermarmi adesso romperei il pato ciao ciao